Il partito di azione scende in campo a proposito delle polemiche divampate all'interno del Partito Democratico sulla nomina dell'Avvocato Rina Presidente del Consorzio Asili Brindisi. Per azione la presa di posizione del segretario provinciale del PD sarebbe un clamoroso autogollo che fa emergere nel Partito Democratico una lotta interna feroce per quanto riguarda le poltrone nei vari enti. Il paradosso del PD Brindisino. Si pensava che la nomina dell'Avvocato Rina al posto del dottor Bianco di Missionario potesse essere la condizione necessaria affinché l'Asi incominciasse a vivere un momento di tranquillità. Invece no. Interviene il segretario provinciale del Partito Democratico con un comunicato stampa e dice che la nomina dell'Avvocato Rina dirigente locale del PD non è stata concordata. Chiaramente ha colto un po' tutti di sorpresa perché chiaramente un attacco del genere generalmente fa parte del gioco delle parti, toccherebbe l'opposizione. Invece no. Il PD mette nero su bianco che non è stata concordata. La domanda che facciamo al segretario provinciale è concordata con chi? Perché noi generalmente pensiamo si concordi la competenza. In questo caso vogliamo comprendere concordata con chi e soprattutto con quale parte del Partito Democratico è arrivato a questo punto. E' una brutta pagina perché la gente in questo momento è stanca di vedere e di sentire questo tipo di fare la politica e chiaramente crediamo che sia stato un autogol clamoroso da parte della segretaria provinciale del Partito Democratico.